musica ok rieccoci, ho fatto un minimo di ricerca, ho scoperto che noi con questa qua non abbiamo nulla a che fare, almeno per adesso mi sono liberato anche dello scamp ho dovuto fare una strada della madonna, ma questo si sta facendo un bagno lì dentro si fa un bel coraggio eh vabbè, se noi parliamo con gli Ashlander e riusciamo ad alzargli la disposizione, loro ci diranno di parlare con un Zabuman o una roba del genere e quindi dobbiamo parlare con questo qua facerebbe sapere dov'è però Zabamundo, dovrebbe essere questo qua, ok forse vabbè, bisogna alzargli anche lui la disposizione a 70 se ho letto dovrei vedere se c'è un modo di farlo senza per forza dargli dei soldi avendo ricaricato non ho perso tutti quei tutti i 2000 che ho sprecato dandole a quella tizia ah ok, no, basta fare così vabbè, praticamente vuole assaggiare diciamo la nostra correttezza murale quindi dobbiamo dirgli offre quindi dobbiamo dirgli offre vabbè praticamente dobbiamo dirgli cosa vogliamo fare possiamo offrirci di affrontarlo a duello un duello a mortale non mi ricordo più come si chiamano oppure vabbè far valere i propri diritti questo qua diciamo dire che abbiamo studiato abbiamo imparato tante cose sulla sesta casa e suonere varine e chiedere umilmente di parlare con questa qua oppure pagare potremmo chiedere umilmente non possiamo fare nulla ah ok, forse dobbiamo tagliare per soluzione col 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 ora ora è contento eh proviamo di nuovo never propices ok proviamo ancora con qualcos'altro pagare ma ah bene il mio hobby cioè vabbè il bello è che se io vabbè chiaramente per informarmi sono andato già sulla wiki dove c'è scritto che diciamo dimostrarsi corretti insomma era la scelta migliore peccato che qua non sia servito ad un'emerita cippa dobbiamo andare da sul matulno una roba del genere qua quella tizia che ci ha rapinato l'altra volta non so se fosse così necessario ehm dargli soldi a sto punto perchè forse funzionava anche senza ok vediamo qua wow che bella barriera che hai wow che bella barriera che hai non siamo degli Ashlander però lui ci fa un ritro di iniziazione che ci probabilmente ci adotta e poi la tizia ci può dire se siamo un nero barriera praticamente vuole farci fare un favore ecco che dobbiamo andare a recuperare l'arco di un morto ok allora dico subito una cosa non so quanto durerà questo video io ho intenzione di fare tutta la quest c'è il rischio che venga diviso a metà tutto qui allora apriamo la mappa vediamo un attimo dove dobbiamo andare se me lo dice direi di no guardiamo allora il giornale aggiornare come è che era Jay allora dobbiamo andare a nord dal campo verso l'acqua poi girare ad est ad una arrivati ad una particolare roccia girare e andare verso sud finchè non troviamo la porta allora forse dovevo comprarmi una cavolo di arma d'argento però vediamo se riesco a farlo anche così ok allora allora ho detto di viaggiare ho già dimenticato come si fa bene dobbiamo andare a nord e poi girare ad est quindi voglio cercare una cairn stone sicuramente cairn non so cosa voglio dire quindi se questa cairn stone non è sì non mi pare che c'è che sia un arredamento qualcosa allora l'entrata dovrebbe essere verso nord mi pare mi pare è north facing quindi noi in teoria andiamo giù di qua dovremmo trovarla se è quella la cairn stone là c'è il tantore daedrico c'è detto anche che è a metà strada fra la red mountain e il campo quindi in teoria dovrebbe essere ancora più avanti e un po' più di qua quello cos'è? quello cos'è? sì ma non credo che sia questo perchè di solito i... i sand... ma questo qua? no burial chaos qua è l'asteral burial sarebbe stato troppo bello non so se l'ho già detto comunque esiste una mappa cioè una mappa, un programma però ne ho fatto un altro qua un programma che ti permette di trovare qualunque posto di Morrowind si chiama Morrowind map o Morrowind interactive map o una roba del genere ed è molto utile infatti adesso io taglierò e mi andrò a cercare il posto ci sentiamo dopo... ok in teoria l'ho trovato in teoria cioè allora so che dovrebbe essere... se questo è un posto che conosco Falesmarion o una roba del genere dovrebbe essere in questo modo qua però prima andiamo a vedere Falesmarion è una... fortezza mi pare che siano delle rovine... cioè antiche fortezze d'Anmera se infatti è questo qua quindi in teoria il posto comunque dovrebbe essere il suo modo qua si comunque sono antiche fortezze d'Anmera che al momento ci saranno dentro o orchi o necromanti cose di questo tipo non so lì di preciso cosa ci sia non mi ricordo una cosa da tenere presente è che c'è una... c'è proprio l'Onchamber all'interno che fungono praticamente da teletrasporto cioè come se ci fosse una rete tra tutte quelle fortezze ed è possibile teletrasportarsi da una all'altra praticamente qui dove ci sono già andato ecco qua devo andare a vedere un attimo no non può essere qua però il posto più o meno è quello proprio un vero più indietro nel caso faccio l'ennesimo taglio per vedere per bene no deve essere per forza quello che perché gli altri posti non ce ne sono quindi se sei notato ho fatto un piccolo taglio prima che è appena adesso prima di iniziare a parlare che ho controllato di nuovo non so se si nota boh mi direi di non farlo notare ma dubito di farci oh mio dio qua sempre buio come la vabbè ok questi posso ancora ancora farli però non capisco perché non mi mette l'ascia ma perché due mani come si tirano fuori vabbè non si vederà un cavolo comunque sto picchiando un un coso qua adesso metterò il dai mettiamo così che almeno almeno riuscite a vedere un po' dove avanti spero di non trovare non morti pesanti altrimenti mi toccherà tornare indietro a quel punto taglierò il video finirò lì la puntata e se ti prendo ti ammazzo metterò il cuore oh mio dio spero che non si sia sentito quello che ho sentito io eh vero se lo sentite ho provato a toglierlo con uno da Steam ma non ce l'ho fatta probabilmente è una sorta di bug di qualcosa o non lo so frecce non me ne posso fare lì c'è qualcosa qua sotto no direi di no l'acide della roba fumante non è mai un buon segno e lì c'è l'uscita c'è il passaggio spero non dovrei dovrei riuscire ad arrivarci magari saltando al momento giusto magari se non continuo a schiacciare spazio ci riesco Shilako Karma Burial però non è bastardi se potevano dirlo che ah no ok ho capito ho capito perché ha fatto quel suono la night mettiamo così so che fa un po' schifo però se no non riuscite a vedere un cavolo mettiamolo la luce comunque vabbè adesso taglierò il vino qui per la prossima parte mi procuro un'altra torcia perchè sennò non... oh mio dio troppo luminoso eh vabbè questa parte finisce qua sistemo un attimo la luminosità perchè sennò mi acceco così spero che il video vi abbia piaciuto spero che imparerò l'italiano entro l'anno prossimo no entro due anni perchè poi la maturità potrebbe servirmi e niente se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e niente niente due volte oh mio dio vabbè sto facendo un pochino di fail comunque al prossimo video ciao